Assessore Bandiera, lei qualche giorno fa con un comunicato stampa ha chiesto una maggiore attenzione da parte del Ministero delle Politiche Agricole sulla vicenda delle quote tonno. Ho chiesto più che attenzioni, ho ribadito con forza quella che è la posizione del Governo regionale del sostegno e piena vicinanza dei nostri pescatori. Riteniamo che ciò che accade dall'anno 2000 con questo sistema delle quote sia fortemente sperequativo e penalizzi in maniera forte la pesca siciliana e quindi l'economia siciliana. L'occasione di questa ulteriore messa a disposizione di quote tonno, un quantitativo importante che i nostri tecnici abbiano un valore che va da 10 milioni di euro se le vendiamo in Italia a 100 milioni di euro se le vendiamo in Giappone, se vendiamo questo tonno in Giappone. Doveva essere a mio avviso e al viso del Governo l'occasione per riequilibrare il sistema che oggi vede privilegiato una pesca che non è siciliana ma la pesca di altre aree del Paese che noi per chiarità non critichiamo e non combattiamo ma nel momento in cui l'ICCAT mette a disposizione ulteriori quote, queste quote devono essere utilizzate per riequilibrare il sistema e rendere giustizia alla nostra pesca e consentire finalmente ai nostri pescatori di poter fare il giusto reddito. Uno per camparci, due per sviluppare la propria attività di impresa. Ho chiesto in subordine al Ministero visto che si tratta di una scelta politica di carattere pluriennale e siamo dinanzi a un Governo che domani mattina non ci sarà più perché siamo a un passo dal voto, ho chiesto in subordine qualora loro ritengono di non suddividere le quote in maniera equilibrata di fermarsi e che questa scelta competa al prossimo Governo perché ripeto è una scelta di carattere politico e pluriennale. Ribadisco queste quote vengono assegnate non per legge, è un decreto del Ministro e del Ministero e quindi è una scelta politica. Ci siamo già attivati questa mattina per chiedere un incontro al Ministero per stare al fianco, a tutela e a supporto dei nostri pescatori perché è un'occasione importante. Devo dire che non tira una buona aria, temo che il Ministero se ne potrà uscire su questa vicenda con una qualche misura compensativa consentendo un po' di più di quota accidentale. Chiaramente è un'azione che non ci soddisfa e chiaramente se faranno atti contrari a quella che è la nostra proposta che abbiamo discusso ieri in giunta valuteremo il da farsi e lo valutiamo anche oggi assieme al mondo della marineria siciliana alla quale siamo a fianco e a pieno supporto e sostegno. Siamo con Giuseppe Pagoto, Sindaco di Favignana. Sindaco, lei più volte ha fatto degli appelli al Ministro Martina per una ripartizione più equa delle quote tonno a favore della tonnara e dei piccoli pescatori. Sì, per riconoscere ai pescatori, nel nostro caso alla tonnara, ma ai pescatori in generale del nostro mare, di riconoscere questa attività che è un'attività storica, è importante, è l'unica rimasta che può dare non soltanto sviluppo economico e sostentamento ma anche un rilancio a tutto il sistema. L'abbiamo chiesto, abbiamo ottenuto una norma nazionale in tal senso, adesso bisogna fare gli atti conseguenziali. Non demordiamo, è una battaglia che portiamo avanti da anni, crediamo che siamo arrivati a un punto di non ritorno a questo, diciamo, siamo abbastanza fiduciosi ma c'è bisogno di lottare insieme per raggiungere questo risultato. Dottore Accetta, qual è la situazione della ripartizione delle quote tonno che a quanto pare danneggerebbe i pescatori siciliani? Siamo molto delusi da quello che sta succedendo a livello nazionale. Noi avevamo un testo unico che era stato approvato alla Camera e che doveva essere approvato al Senato, dove all'articolo 16 di questo testo unico, si diceva chiaramente che la quantità aspettante all'Italia per il 2018 in più rispetto all'anno 2017 dovesse andare a favore, per una grande e buona percentuale, a favore delle imprese che da 17 anni stanno alla finestra a guardare. Siamo in uno stato di agitazione e abbiamo avvisato tutti i nostri prefetti di questo. ci auguriamo che il nazionale a questo punto, il ministro Martina, non firmi questo decreto, lascia adesso il 4 se andrà alle elezioni politiche, quindi mi auguro poi che chi verrà dopo, ma anche lo stesso Martina glielo auguro perché no, possa mettere mano anche organizzando un incontro prima della firma. Capitano Marco Dramati, capitano come dovrebbe essere organizzata la ripartizione delle quote del tonno rosso? L'equa ripartizione sarebbe, c'è una ripartizione già fatta dal ministro Catania che per la prima volta che la quota è aumentata di 162 tonnellate per l'Italia e questa è la prima volta che quello, il ministro Catania, ha ripartito la quota in una maniera equa, tenendo conto delle varie, quindi c'è un documento già fatto dal ministro Catania. Questa è la ripartizione che è stata fatta il vecchio piano triennale e io una ripartizione che non aveva nessun riferimento, per cui sarebbe giusto, visto che c'è in previsione un altro piano triennale, che si terrebbe conto di quella ripartizione. E voi che cosa chiedete? Quale deve essere la ripartizione? La ripartizione dell'allora al ministro Catania dava il 12% alla circuizione, il 42% ai palangari, che sono più di 20 anni, che sono stati sempre tartassati in maniera, non è stata mai eco la ripartizione, cioè la quota dei palangari veniva trasferita sugli altri sistemi di pesca, quindi che come punto di riferimento già era quello la ripartizione, noi chiediamo che sia quella, come l'ha ripartito il ministro Catania e si starebbe tutti bene, una percentuale così come è ripartita, teneva conto della pesca accidentale, teneva conto della pesca dei palangari, che poi questo sistema di pesca è stato realizzato nella marineria di Marsala, che aveva dato un futuro e una prospettiva a tutta la pesca siciliana, tutta la flotta dei grandi pelagici faceva come riferimento a questo sistema, perché tra l'altro è uno dei sistemi di pesca più selettivo al mondo.